Tutto verde oro in casa Bondi. Verde oro, grigliata brasiliana, quindi siamo già a buon punto. È rimasto ad Ancona, godendosi il sole e il mare di Porto Novo con la famiglia Rafael Bondi. Il fantasista bianco-rosso tifferà ovviamente Brasile nella Kermessa dei Mondiali, che si giocano nel suo paese, ma lui, originario di Sajo de Meritino, ne è rientrato in patria. Perché? Beh, la voglia è quella di lavorare qui, farsi trovare in forma per il ritiro di Camerino. Tanto con Marcaccio l'accordo economico l'ha già trovato e a luglio arriveranno anche le firme sul contratto. Siamo molto vicini, non ci sono tante cose da accordare ormai, non parlare. Aspettiamo gli inizi di agli, quando finiranno i contratti, vediamo se si concretizzerà questa cosa. Niente saudaci per Bondi, che vede da lontano i cambiamenti del suo Brasile e vive con amarezza le manifestazioni di protesta, già scattate nelle ore precedenti alla cerimonia d'apertura del Mondiale, sedate dalla polizia con i fumogeni. È cambiato negli ultimi anni, dopo che lui è diventato presidente, l'economia ha fatto un grandissimo salto, la povertà è diminuita tantissimo, ovviamente ci sono problemi che sono sempre stati, tipo la salute, gli ospedali sono adeguati, le scuole non sono adatte, la sicurezza è sempre un problema, però queste cose ci sono sempre state, ci sono problemi che sono sempre esistiti. Io capisco l'indignazione della gente, ma non capisco il momento, perché quando il Brasile è stato scelto per fare i mondiali, tutti hanno fatto festa, tutti hanno festeggiato, si sapeva che dei soldi sarebbero stati spesi, quindi non vedo il perché di questa cosa, perché non hanno protestato prima, tu vai a danneggiare l'economia del Paese.